Oh, oh ma bella. E ti viene il tuo coltello, non mi posso più accostare. E come facciamo? Vieni a vivere con te la sanità. Ci troviamo una casetta. Cioè, così? Ma è la gia casa? E ti, quelle sono le vostre via con te, patata. Hai capito? Ma io che so che sei chiamato tutta sti tarantella. E ti, la situazione è chiesta. E ciò dici tu a pato, ma che bella e buona ce l'abbiamo a vivere assieme? Sì, sì, ciò di chi? Tanto ti dice no. E allora vieni come vostro. Cioè, così? E allora lei ti lascia stare, non è cosa? E a te te sta buona? Ma tu ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Sì, mi sta buona. Anzi, ma giravano un problema.